Noi siamo lasciati, separati a qualcosa scritto in modo diverso, in modo rovinato, diciamo così, ma siamo rimasti veramente stralegati con tutta la dirigenza, con staff, con tantissime persone da Pesaro e da questo punto, da questa parte non è stata una sorpresa, è stata una sorpresa perché io onestamente aspettavo che continuino avanti con coach Banchi perché hanno fatto bene, dopo quando sono separati è arrivata chiamata, abbiamo parlato serio e profondo per mettere tutte le cose a posto che sono state, diciamo, misunderstanding che abbiamo avuto dopo primo anno e abbiamo fatto d'accordo che possiamo ripartire, andare avanti e fare bene insieme. Con il nostro budget non possiamo sbagliare, ci sono presupposti per fare bene un budget veramente discreto, per fare bene, per trovare persone giuste, giocatori giusti, ma nello stesso tempo non possiamo sbagliare. Prima di tutto non possiamo sbagliare le persone che non vogliono stare con la squadra, avere obiettivo comune, lavorare duro ogni giorno, sacrificare per vincere ogni giorno ogni partita, con pieno rispetto qualcuno potrebbe avere più talento, ma per noi queste regole o caratteristiche base, caratteristiche umane sono molto, molto importanti. Sappiamo dove dobbiamo mettere stranieri, prima di tutto se Moretti va via, mi sembra che è molto vicino. Noi da nostra parte abbiamo fatto una idea, secondo me, che è stata veramente molto corretta verso di lui, perché aprire posto per primo point guard, sai, lui per adesso non ha accettato, vorrebbe giocare le coppe, ma secondo me sono poche squadre nel mondo che lo danno opportunità per essere primo point guard. Mio obiettivo è avere palazzo pieno, uno dei palazzi più grandi in Italia, bellissimo palazzo, che cosa significa? Se ci sarà pieno vorrei dire che ci saranno risultati e così, l'obiettivo è questo. È un rapporto che va avanti non scontato, sono questi bei risultati e le emozioni che in questi anni abbiamo ottenuto, ci fanno sempre venire più voglia di rimanere legati alla Carpegna Prosciutto Basket Pesaro e lo facciamo soprattutto anche per una questione imprenditoriale, perché siamo legati a questo territorio, con il nostro prosciutificio in Carpegna e siamo ancora qui per il quarto anno. Sicuramente credo che come title sponsor siamo nei top 5 di questo campionato. Questo è quello che volevo dire e quello che volevo sottolineare, che ho avuto modo di poter fare stasera, è che l'impegno che l'ufficio Beretta prende come singolo entità sportiva è il più alto che noi affrontiamo. Io quando Ario ha dato la notizia che Banchi per sua volontà ha deciso di interrompere il rapporto, semplicemente ho chiesto a Ario, ma Jasmine è ancora disoccupato? No, lo spettacolo delle ultime partite, soprattutto io purtroppo ho stato un po' assente nella metà del campionato, la seconda metà, però ho avuto modo di vivere la gara 3 dei playoff ed è stata una figata pazzesca, il pubblico, la motivazione, le lacrime che ci sono state da parte di alcuni giocatori per l'ottenimento di un buon risultato che il format dei playoff pecca un po' per quello che siamo come squadra. Le ambizioni sono veramente alte anche perché abbiamo capito che indipendentemente da che squadra fai, le scelte che fai, la situazione della salute dei giocatori, gli allenamenti, la preparazione, possiamo arrivare dove vogliamo. La realtà dei fatti è quella. Come dicevo prima, noi probabilmente come squadra siamo un po' più avvantaggiati nel format delle Final 8 perché sono partite one shot dove la capacità tecnica conta al pari del carattere e della determinazione e credo che con a capo della squadra uno squalo come coach Reppe già potremmo probabilmente toglierci qualche soddisfazione in più. Poi arrivare vicini o conquistare un trofeo l'importante sono le emozioni positive.